Non vado a fare la pagine, non vado a fare la ciancina! Allora! Si andava a fare fuori! Chiarino adottorini! Davideppo! Eh! Ehi! Dove è una banana la cosa? Sì! Ma facciatevi! No, certo. Se lo vado a prendere la pizza, c'è la pinnace! Stai qui! Vai Davideppo! Tutto lo li ha! A me è un bel ritmo! Non cazzo a fattore! U elements! Ehi, ecco che cosa stai facendo! Ehi non vuoi far spiegare a lunghi, guarda! Lì non vado a mangiare, non mi fai che le piscine! ma io gli ho la線 ah! non mi sono ency non mi sono ahhh sai ci sono un po' altri coup giocci ah allora, non ti misse ilelenco tanti gli accetti non voglio ci fare ecco ah no, non mi sono estavam vanno da qua Andiamo? 5 6 7 8 8 8 2 3 3 2 3 1 Vittoria. 1 2 4 3 7 7 7 Grazie a tutti.